Ecco una soft news. La fake news manca sempre il bersaglio. La copia non raggiunge mai l'originale, il modello. E qualora lo raggiunga, svanisce, si dissolve. Così si sciolgono i ghiacciai e gli imperi. Sino all'istante prima 200 milioni di carcerati e 50 milioni di carcerieri e l'istante dopo 300 milioni di cittadini. L'istante prima l'impero, l'istante dopo la federazione di stati indipendenti, l'istante prima l'antico romano impero, l'istante dopo la nuova Etruria, l'Europa. L'istante talvolta richiede millenni agli omoplex, ai piegati, ai sottomessi e ai prosternati nello scenario, l'apostrofo, senza peraltro pervenervi. E conclude così questa soft news, in altro modo, e in modo altro, si instaura la cittadinanza. Era proprio una short news. Grazie.